ecco siamo in località la caletta adesso andremo verso le spiagge di los monteros e la playa diego hernandez quindi faremo il video di questa passeggiata bene non proprio passeggiata ma più che altro una camminata in quanto c'è da scalare questo primo promontorio poi un secondo promontorio per arrivare alla playa diego hernandez si riesce a vedere tutta la costa fino a playa de las americas che è il promontorio in fondo qui c'è anche un piccolo accampamento con delle persone che dormono siamo arrivati alla sommità di questo primo promontorio ci sono da fare un paio di centinaia di metri per arrivare alla prima spiaggia ecco siamo su quest'altro versante però ancora non riusciamo a intravedere la baia ecco qui vediamo la prima playa de mordadores che però ecco presenta molti ciotoli e non è un gran che invece superando quest'altro quest'altro diciamo picco si arriva alla playa diego hernandez che invece che è molto bella con delle belle spiagge ok 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 eccoci arrivati sulla prima playa e ora andremo verso la diego hernandez che invece è molto bella con delle belle spiagge eccoci arey diciamo eccoci eccoci ecco siamo arrivati alla sommità di questo secondo promontorio qui si scorge di nuovo la caletta e tutta la costa fino a Playa dell'Asamerica e ora facciamo questo secondo promontorio e poi arriveremo alla Baia Diego Hernández ecco da questo punto riusciamo a vedere bene tutta la playa che si trova a un paio di centinaio di metri poi in lontananza vediamo i complessi di Playa Paraiso e non si riesce a vedere il puertito che è una piccola baia che si trova in mezzo tra questa baia e Playa Paraiso ecco qui siamo proprio sopra la playa e non si riesce a vedere ancora c'è un ultimo tratto di corda quindi terminiamo il video di questa bella baia